Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono il vostro caro RoboGamer, sono finalmente ritornato su Strambul dopo un secolo Che... Ma che... Ma che... Che è successo al... Ehm... Hanno cambiato la... la ruota Ok, già... Ma che perfetto... Ma riesco a tenere qualcosa... Ma... Posso? Ok... Mi... Ehm... Qui ancora... No, non posso guardare la mia pubblicità... Vabbè... Giochiamo! Mh... E' già... Eeeecco... Le monete... Le monete... Le monete... Le monete... Le monete... Sono al primo posto! Let's go! Ecco... Come ho detto... Come ho detto... Come ho detto... Come ho detto... Mh... Vattene... 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 Supreme... E mile... Vado... Vado... Non fa più monete. No. Ok! Basta! Va! Yeah! No. 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 È giusto. Ok. ok amore minuto guarda ahahah che sono come ok ciao papà ok ciao ma sto giocando sto giocando si me l'hanno regalato i capelli in bianco allora vi spiego che è successo in pratica oggi a scuola ho fatto la giornata della terra in pratica sono uscito da scuola e abbiamo tipo giocato a una specie di gioco dove bisogna prendere la plastica e siamo arrivati al secondo posto ma lo sto morendo con sta tosse aiuto ho sbaglia no no eleva un piccolo questo del percorso un pugno attenzione fuoco di pasqua anche se pasqua è finita mannaggia nevatevi ok metto sempre fuoco di pasqua ok riusciti vai primo let's go beh non ho pronto alla prossima parateca madonna questa tosse sto morendo ed è brutto sto morendo io sto tosse io sto già che peb io sto già che peb trick attenzione ma por vado ne qualifico ne qualifico ne qualifico ne qualifico attenzione e mo sbaglio tutto e mo sbaglio tutto ci sono i pro player quelli lì mega pro che mi prego è vero no eeeh 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 ed esgo intanto qui ma che mi interessa shoppare qui vado a me vi faccio un giro di ruochi vediamo com'è lo trovo io vediamo 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 oooohh eeeh eeeh dovete quante schien mi mancano ah a parte che mi mancano ultimamente tutte eeeh eeeh allora mi mancano queste 3 no 1 2 2 2 3 5 Questa 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 non l'otterro mai Ma anche queste qui che hanno aggiunto Agli ultimi giorni Full guys No poter Dai non mi dire Che c'era pure un pesce Da aprire di stram Ah vabbè Pazienza Ma quanti personaggi hanno aggiunto Porca miseria Ma quanti speciali Ma no So già che non riuscivo mai A ottenere le tute E per questo io Io Mi ho detto Pirata d'oro Si fa la tattica dei 5 giri Se non trovi pirata d'oro Pazienza Pazienza E poi Mi faccio un'altra partita E il video finì Vado Se mi dava la speciale Quella lì Che non stavo C'era Guarda che mi è passata Se non mi dava la speciale Quella lì Quella verde Ma voglio Il passivo Del brutto Oh hai contato una Ammungù No Niente ho trovato Schivezza Cos'è sta roba Facciamo l'ultima partita Cos'è qui Intergiornale Nuova Nuovi personal Qui Non ci sto capendo Niente Nemmeno io Boh E ok Eccoci qui Su Django Ruled Let's go Un momento Un momento Vai Così Vai Guardivo Primo No C'è la banana No T'ho visto Perché Faccio il trick Non cade Perché Vabbè Raga Manco Mi qualifico Io Mi sa Manco Mi qualifico Ma Qu'è Con il coniglio Spazia Attenzione Tutto a posto E ne va No Che fastidio La gente Che fanno Non ci ne è Tu mi hai coperto La schiena Quello ti merito Faccio No Lo stembole Vai No Nell'angolo No Nell'angolo No Ecco Oh E' finito No Eh ma Qui mi sa Che c'è La trollata Mi sa Che c'è La trollata Non è Posso Ok E mo Mi sa Che in finale C'è la trollata 100% Ve lo dico io Ma che fa Su drago Ma che Qualificati Madò Se non si qualificava Quanto ci godevo Quel drago Dam Boom Come si scrive Si scrive Allora 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 Già che mi arriva Una bombazze Tu 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 La banana Sta volando In colpa Vediamo se funziona anche te Vediamo se funziona anche In questa banana Qui Vediamo No Ecco che Già ci ha provato Vediamo No Mamma mia Aiuto No Andatevene 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 All'altro lato Oh Uno più uno Uno più uno Uno più uno In Quell'impastore No No Sì Avevo Di me Di buttare Banana In acqua Perché si sta Dicando No No Mi arriva Una bomba In faccia Io giuro Ma Che è Que Vado Ti dico Una Easy win Vado Due vittorie Di fila In questo video Let's go Rock 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 Vabbè Per questo video È tutto Ciao Ciao No 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 Non è il film Voglio dire Se non ho visto Totalmente Antipacco Potete lasciare Un mio bacio Mettere Iscrizione Antipanile Campanelle Ciao Ciao